Noi voteremo in dissenso come alternativa alla risoluzione di maggioranza. Intanto poi ne abbiamo presentato un'altra, noi che in questo momento è stato dato parere negativo dal sottosegretario Amendola. Noi abbiamo presentato una nuova risoluzione proprio perché siamo contro l'utilizzo delle armi in Ucraina, perché questo non porterà a nulla di buono. Siamo per il sostegno a livello umanitario e per tutte le forme di cooperazione e di soluzione verso la pace. Non crediamo che un muro contro muro con la Russia porta a qualcosa di buono, se non altro ad aumentare il suo talizio proprio tra le due potenze, Russia e Cina. Il ruolo dell'Italia deve essere quello proprio di mettere in campo tutte le misure per una pace in questo luogo. La storia ci ha insegnato già che atti di forza portano solamente a morte e a terrore tra i cittadini che sono poi indifesi. E' verso di loro che noi dobbiamo adottare tutte le misure di cooperazione, sperando che si risolva al più presto possibile.